Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi oggi siamo qua su un nuovo gioco che si chiama The Wall E ragazzi finalmente penso che comincerò a portarvi tanti bei giochi sul canale Quindi comincieremo a recensire vari videogiochi Ehm questo qui è il primo che porto ufficialmente diciamo si chiama appunto The Wall Ed è un gioco indie quindi è anche gratuito Beh non tutti i giochi indie sono gratuiti ma questo è gratuito e vi lascio il download in descrizione ragazzi Ehm comunque cominciamo subito perché ci metterò un pochettino sicuramente a caricarsi Si chiama The Wall il muro e appunto ci genererà adesso un muro gigante Eccolo qua questo è il nostro muro che noi dobbiamo scalare dobbiamo arrivare in cima Ma la già vediamo la prima postazione ma vedremo poi dopo come ci si arriva Allora parliamo un attimo del gioco Beh si muove ci si può muovere con le frecciette no solo con Wazd Ehm poi ci si come vediamo un attimo del resto Allora abbiamo questo strano giaggio in mano Che cosa fa? Allora con il tasto destro non fa nulla ma col tasto sinistro se puntato su un mattone lo può spostare Io punto un mattone vedete che diventa blu e fa pam ed esce fuori Indipendentemente dalla sua dimensione possiamo comandare i mattoni Perché comandare i mattoni? Perché così noi possiamo fare delle cose di questo genere Ovvero arrampicarci sul muro Ehm come si muore in questo gioco? Ah qua c'è un mantello ragazzi non chiedetemi a cosa serve perché non lo so So che se lo puntiamo ci va su questa schermata Ma basta Io voglio indossare questo mantello vero? Tu non me lo farei mai indossare Grazie Cattivo Butto questo mantello nel baratro Oddio mi sono caduto io nel baratro E beh colgo l'occasione per farvi vedere che quando cadete nel baratro Non si morirà mai E si continuerà a cadere all'infinito Quindi l'unico modo per morire in questo gioco è letteralmente schiantarsi Quindi se non ci schianteremo Perché so che avete aperto questo video solo per vedermi schiantare Quindi puntiamo una bella mattonella E voilà morti Non c'è una bella scena di morte Peccato sarebbe stato figo qualcuno che si schianta Comunque Cosa farò adesso? Faccio un piccolo stacco per non annoiarvi Perché voglio arrivare Alle varie impostazioni che ci sono salendo Oddio Questo affarca me avrebbe sicuramente buttato di sotto È enorme Comunque Adesso Arriverò fino lassù E poi vi farò vedere Che cosa c'è Ad aspettarci Ok ragazzi Eccoci Sono quasi arrivato Nel frattempo Registrarò questa piccola parte Per farvi vedere un attimino come Ci si può arrampicare Cioè ci sono varie tecniche alla fine Le dovete scegliere poi voi E comunque Volevo anche dire una piccola cosa Che mi sono dimenticato di dire Ovvero che In questo caso Faremo un episodio unico Per questo gioco Ma ci saranno alcuni giochi Soprattutto quelli a pagamento Non quelli gratuiti Free to play O gli indie game O cose così Che Appunto Al quale vorrei dedicare Magari più Di un episodio E E quindi appunto Ci sarà appunto Un numerino Classico Con Il numero dell'episodio Questo qua Se non ha un numerino È per il fatto È per il fatto Che non vi porterò Altri videogiochi Altri gameplay Di questo Carissimo Wall The wall Stavo per dire Skywars Non so perché Comunque Ci siamo leggermente bloccati No O si No io direi di si Dai siamo abbastanza bloccati Ma adesso facciamo questa super mossa Di parkour E arriviamo fin qua Ok Adesso facciamo Tacte Allora Facciamo Tac La tecnica del Buru Buru Awa Awa Ok Sì La tecnica del Buru Buru Awa Awa Se non la conoscete Imparatela Perché Nella vita vi serve Comunque basta Dire cavolate Perché siamo Finalmente Arrivati Alla nostra postazione Che cosa succede Adesso il gioco Entra un pochettino Nel vivo E Entra un pochettino Nel vivo Vuol dire che si Prannuncia la sua conclusione No sto scherzando Ragazzi Non Non finisce Teoricamente Perché il muro Dovrebbe essere Infinito Non vorrei dire Delle cavolate Però è veramente Molto alto Se ha una fine È veramente molto alto Allora Questi qua sono i cubi rossi I cubi rossi Non si possono Assolutamente spostare Compare anche la scritta Checkpoint Qua compare la scritta Niente Ok Questi qua invece sono bianchi E si possono spostare Spostiamo anche questo Voilà Ok E ci arampichiamo di qua Perfetto ragazzi Ottimo Ottimo Ok Che cos'è questo? È un ascensore gigante Noi entriamo dentro Tiriamo la corda Con il Tasto Cosa? Ok Col tasto Destro Ok No Adesso è una cavolata La puntiamo Vi verrà il puntino E Cliccate sempre col sinistro È tutto di sinistro Questo gioco Ok va bene Ok Anche salendo Possiamo Tirare sui muri Ma va bene Adesso saliamo E aggiungiamo quel ponte E cominciamo a vedere Una piccola cosa Molto curiosa Di questo gioco Aspetta Andiamo giusto in cima Ok Siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati Sì siamo arrivati Olè Allora Checkpoint Ottimo Allora Allora Qua Non si può più salire Perché le scale sono rotte Bene Quindi dovremmo proseguire Alla vecchia maniera Qua Riusciamo a fare un salto? Sì Ce la rischiamo Questi sono cubi blu E si possono spostare Ma credo che siano A tempo Quindi bisogna essere molto Repentini Ragazzi Ok Opla Eccola qua La cosa particolare C'è la vita Sull'albero Infatti ci sono Degli alberi Che crescono E Anche qua Dovevo fare un altro stacco Beh qua ci sono I cubi verdi Che a differenza Degli altri Cosa fanno Si aprono Si spostano Ma quando non li tocchiamo Sì Cioè ritorno Allo loro posto Comunque adesso Tornerò Cioè salirò E andrò fin lassù Dove raggiungeremo La prima città E o meglio L'unica città Perché il gioco È ancora in fase di sviluppo Appunto faccio un attimo Questo stacco Dove mi arrampico E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci Siamo arrivati Finalmente Alla primissima città È l'unica Ok Prima e unica città Comunque Comunque Come Siamo arrivati fin qua Sempre scalando Appunto E che cosa faremo qua Questa è una bella domanda Ovvero qua non si può fare nulla Perché vediamo che c'è un ascensore Ma è ancora in costruzione Quindi andremo Alla città E nella città Cosa troverete ragazzi Allora adesso noi Entramo nella città Vediamo che ci sono le scale rotte Della città Di prima Che Non dovete assolutamente scendere Perché altrimenti Tornerete là indietro Qua vi dice checkpoint raggiunto Città assolutamente Deserta Non si può interagire con niente In questa città Potete cliccare su tutto Ma non si può fare assolutamente niente E Eccolo là Questo È il nostro Caro amico Oddio Sì ragazzi È il Tra virgolette L'unico Essere event In tutta la mappa Che io abbia mai visto Con le varie prove Che ho fatto Con questo videogioco Oltre a noi L'unico essere vivente Ok Noi saliamo Su questo carissimo tipo Che ci farà lui Da ascensore Molto gentile Peccato che adesso Non Non sarà molto contento Di averci portato in giro Con lui Tanto che Adocchierà Quella zona E penserà E penserà bene Di andarsi a schiantare La dentro Quindi noi dovremo Assolutamente Cercare Di pararci Il cuore Ok Non mi sono fatto niente Per fortuna E lui si è piantato La dentro Ok Mi è andata abbastanza Di cuore Ragazzi Di cuore Il problema qual è Ragazzi Adesso siamo Veramente nella cacca Perché siamo In una zona Veramente Del cavolo Perché ci sono Queste cose qua Verdi Che adesso vi faccio vedere Un secondo Come funzionano Se io Ci salto sopra Come vi dicevo Prima Loro Percepiscono La mia presenza Si vergognano E ritornano Nel loro buco Quindi ragazzi Dobbiamo salire Di qua Cerchiamo di evitarle Di usare solo Quelle chiare Queste qua bianche E Adesso Visto che non ci sono Altre mete Cercherò di salire Da solo ovviamente Perché non voglio Noiare assolutamente Perché Da fare È abbastanza divertente Questo tipo di scalata Però da vedere Non è al massimo Quindi Io adesso Mi arrampicherò E starò Più o meno Lungo questo ascensore Perché comunque Se stanno costruendo L'ascensore Da qualche parte Porterà Ehm Quindi niente ragazzi Direi che da qua Faccio un altro sacco E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Rieccoci Direi che Per questo Video è tutto È stato un video Molto corto Ma giusto per presentarvi Un gioco Molto semplice Adesso so Che molti voi Scriveranno nei commenti Ma questo gioco Fa cagare Fa cagare Si è già un gioco Che Va giusto bene Per giocarci qualche volta Però Calcolando che è gratis Fateci una partita E soprattutto Vi lascio con questo dubbio Che cosa c'è In cima A questa funivia Infatti Ne ho scalata Una gran parte E vi faccio vedere Una cosetta Ovvero Che Continua E la prima cosa Che si incontra È quella Non so se si vede Molto Aspettate Mi sposto Più in qua Senza cadere Là c'è una cabina Tipo Ferma A metà E Penso che Continua ancora un bel po' Ragazzi Scaricatevelo Tanto è qua sotto In descrizione Gratuito E scoprite voi Come Come finisce Se finisce Se sta cosa Si continua a spawnare Non lo so Scopritelo voi Io ragazzi Direi che per questo Veduto Mi butto nel vuoto Tanto qua Non si muore Ok E niente No 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 Qua si muore Ci sono alberi Aiuto Aiuto Sto per scattarmi Con un albero Ok Ragazzi Direi che Per questo video È tutto Io spero Che questo Primo video Di recensione Di videogiochi Vi sia piaciuto E Consigliatemi I vostri giochi Gratuiti da provare Consigliatemi I giochi Che volete vedere In generale Ragazzi Ditemi Cosa ne avete pensato Se ne avete scaricato Io come solito Vi ringrazio Per tutto il mi piace Per tutti i commenti E soprattutto Per tutte le iscrizioni Che Veramente Sono sempre tantissime Io ragazzi Continuo a cadere Per le prossime Tre ore Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti